Siamo pronti per partire per il Colle Besso, nuova escursione mai fatta da nessuno dei due. Giornata limpida, oggi ci saranno i temporali ma noi quest'ora non abbiamo problema. Adesso abbiamo lasciato la macchina qui, siamo a Traversi, attraversiamo il torrente, poi un'ora e mezza di cammino arriviamo al Colle. Ciao, che bel bosco! E' così fino in cima, pensa! Tutto così, difatti qui vengono tutti a fughi, ma che bel rifugio che hanno fatto! Sì, è bello, credo! Sì, è bello! Sì, è bello! Sono a metà del posto, 45 minuti, la sua storia di questo posto, un'ora e mezza. Sì, è bello! Sì, è bello! Spargata Carla Qui facciamo il documento E siamo arrivati Questa sarebbe? Capra Capra La porta giù? Per forza, mica la tiene qua No, se avessi la strada Non so che arrivassi fino qua la strada Beh, un po' serrata Eh, ci vuole un fuorestrada Ah beh Il cartello Salve Ciao bello Ciao Ciao bello No, no, non gli faccio niente Vai tranquillo Guarda gli agnellini Adesso queste le riprendiamo Guarda che è carino Guarda come si Guarda che vista Carla Ma che vista? Te l'ho detto che si vedeva Giaveno di qua. Eh? Te l'ho detto? Uh, ma questi sono bellissimi! Ma guardali! Ma fantastici! Ma che cucciolotti! Eh? Belli! C'è pure la protezione, vedi? Ciao! Adesso mangiamo un attimo la cosa, l'ho portato in un bel posto, guarda che cosa. Bene, ci facciamo colazione. Cosa può scendere quel pezzo che abbiamo fatto? Ma va, è precisissimo. Un scalino. Ma va. Se lo raggiungiamo, ci stiamo avvicinando alla nostra meta. E poi è lassù. E' dura. Quasi arrivato. E che? I lavori cominciano già a farsi. Siamo arrivati in vetta. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Mi sta diventando brutto. Tempo di fare una foto, poi scappiamo. E' già brutto. Sentono già i tuoni. Quindi scappiamo di corsa. A dopo. È... Il ritorno. Una macchina. Il tempo ci sta aggraziando. Poche gocce d'acqua. Che ci lascia arrivare. Poi si scatena pure l'Inferno. Eh... Abbiamo così troppo il pranzo. E va bene. C'erro il這e,doca, C'è giusto Grazie per la visione!